Sospiri, il 24 maggio in Consiglio regionale presenterete un documento nel corso proprio del Consiglio perché si parlerà di trasporti chiedendo impegni precisi alla Regione per le infrastrutture trasportistiche abruzzesi. Il sistema dei porti non decolla dal punto di vista infrastrutturale. Sull'aeroporto Ryanair e Ritalia cancellano ufficialmente sui loro siti voli che porteranno il nostro aeroporto a diventare un aeroporto regionale non più di rilevanza nazionale come negli anni alla giunta Chiodi eravamo riusciti a farlo crescere. Sulla messa in sicurezza delle autostrade c'è una confusione carte e documenti che si rincorrono. Sulla società dei trasporti pubblico e locale si sta per aprire una voragine per i tagli continui che arrivano da parte del Governo nazionale PD e per l'incapacità di un piano strutturale di rilancio. I problemi li abbiamo avuti anche noi con Ryanair per tanti anni, li abbiamo negoziati, li abbiamo trattati e abbiamo cercato in qualche modo di contemperare le esigenze, tant'è vero che gli abruzzesi hanno avuto l'aeroporto più frequentato della sua storia, insomma, fino ad arrivare a 650.000 passeggeri rispetto ai 140 iniziali. Io dico per quanto riguarda l'aeroporto, se l'Abruzzo dovesse perdere l'aeroporto, insomma, sarebbe un danno molto più rilevante di quello del masterplan, insomma, dei soldi del masterplan. Penso al porto di Ortona, che c'è un dragaggio di 9 milioni di euro da fare, che è ancora ferma e ancora carissima. Contestualmente vedo che alcune infrastrutture che erano state programmate ed erano state condivise anche da questo Governo regionale, come il campus dell'automotive è stato cancellato, come la Tras Collinare è stata cancellata. Penso che sul trasporto pubblico locale assistiamo solamente a proclami, ma soprattutto la nuova cancellazione del secondo volo su Milano, credo che forse qualcuno queste strategie le dice, le proclama, ma poi non le segue e quindi qualcosi in consiglio dovranno spiegarci.